I consumatori sono soddisfatti del nuovo ruolo assunto dai mediatori creditizi, in particolare in un momento di crisi che vede calare la fiducia nelle banche. Sono in primo luogo le agenzie immobiliari, seguite dagli amici, il canale preferenziale per entrare in contatto con questi consulenti e accedere così al credito immobiliare e ai finanziamenti per acquistare o ristrutturare un immobile. È quanto emerge da un'indagine sulla Customer Satisfaction sui consulenti del credito, realizzata da Adiconsum dopo la firma di un protocollo d'intesa con Auxilia Finance, costola di FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Renato Calì, segretario nazionale Adiconsum. Le banche e gli istituti di credito stanno sempre di più perdendo la loro vera funzione che è quella di rapporto diretto col cliente, mentre invece sono oggi questi consulenti finanziari, quelli seri, che danno un'opzione di possibilità, un ventaglio di opportunità rispetto anche alle condizioni economiche. L'indagine, realizzata su 300 intervistati, ha fornito una fotografia delle dinamiche del mercato creditizio in Italia, approfondendo la relazione tra i mediatori e gli istituti di credito. Samuele Lupidi, amministratore delegato della società di mediazione creditizia Auxilia Finance. Nella selva di offerte che il cliente si trova a dover gestire e magari non ha la competenza, come spesso accade per il 90% dei clienti, avere a fianco un consulente del credito che lo aiuti, lo consigli, lo indirizzi in questo mercato sicuramente è qualcosa di positivo e che facilita anche la conclusione dell'affare. Insomma, una mano in più per questo mercato immobiliare che è un po' asfittico.